Devastante l'esperienza amministrativa di questi cinque anni. È successo di tutto, ma abbiamo messo l'anima in tutto ciò che abbiamo fatto. Così il sindaco Francesca Valenti nella sua ultima conferenza stampa di fine anno del suo mandato. Un fine anno caratterizzato dal dilagale dei contagi nell'ambito della nuova ondata di pandemia. Numeri impietosi a livello regionale e provinciale. Sicilia che si appresta a cambiare colore da lunedì, mentre da oggi Ribena e Ribera è in zona arancione. Arrivano i biologi a sostegno dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia. Ci saranno anche loro negli hub vaccinali per effettuare le somministrazioni e presso i drive-in per effettuare i tamponi. Siglato protocollo con la Regione. Un anno di RMK Notizia. Anche quest'anno vi proponiamo una sintesi dei principali avvenimenti del 2021 che hanno caratterizzato la vita cittadina colpita non solo dalla pandemia, ma anche dall'emergenza idrogeologica. Esplosione a Ravanusa. La procura di Agrigento ha emesso 10 avvisi di garanzia indagati i responsabili nazionali e regionali di Italgas. Un atto dovuto per effettuare un accertamento su Via Trilussa dove sono morte 10 persone. Fiocchi di Carnevale e il carro Volere Volare. Il vincitore dell'edizione 2020, quella sorspesa per la morte del piccolo Salvatore Sclafani, lo ha deciso la giuria dopo le due serate di esibizioni all'hotel Alicudi del complesso di Sciacca Mare. Ben ritrovati a quest'ultima edizione del 2021 di RMK Notizie. Conferenza a stampa di fine anno del sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, che non si è ancora sbilanciata su una ricandidatura o meno alle prossime elezioni amministrative. Ha definito comunque devastante l'esperienza amministrativa di questi cinque anni. È successo di tutto, ma abbiamo messo l'anima in tutto quello che abbiamo fatto e non sono insoddisfatta. Così Francesca Valenti. Ma seguiamo il servizio di Maria Genuardi. Quella di oggi è stata l'ultima conferenza stampa di fine anno del sindaco Francesca Valenti, sicuramente l'ultima di questo mandato elettorale, posto che ancora oggi non ha ufficializzato se si ricandiderà o meno. Ritengo giusto confrontarmi prima con gli ex consiglieri e quanti hanno sostenuto la mia amministrazione, con il PD e con Michele Catanzaro, ha dichiarato questa mattina, annunciando che la decisione verrà ufficializzata tra qualche settimana. Così Francesca Valenti ha comunque commentato e valutato la sua esperienza alla guida della città di Sciacca. Se io devo fare una considerazione personale su questi anni, io dico a molti, chi mi conosce lo sa perché non ne faccio mistero, quando mi dicono come è stata questa esperienza finora, io rispondo devastante. Però non con un'accezione del tutto negativa, questo lo voglio chiarire. Certamente devastante perché è veramente pesante, è andata al di là di ogni immaginazione, con delle emergenze epocali che nessuno veramente poteva immaginare, che nessuno avrebbe potuto pensare neanche lontanamente. E questo ha segnato molto, tanto, tantissimo, questa storia, questa avventura amministrativa. Certamente, questo certamente. Ma devastante anche dal punto di vista proprio personale, nel senso positivo del termine. perché al di là di tutte le cose strane, di tutte le polemiche, al di là di tutto quello che non era mai accaduto, penso allo scioglimento del Consiglio Comunale, cosa che ovviamente non era mai accaduta, al di là di tutto quanto, è certamente un'esperienza che riempie la vita, riempie sotto tutti i punti di vista, è quello che diventa la vita. E questo è, penso che sia la cosa fondamentale per quello che mi riguarda nella valutazione. Fatica, tanta fatica, però io non sono insoddisfatta, ecco, se questa è la domanda, ma l'insoddisfazione, non sono insoddisfatta. Abbiamo fatto veramente tante cose, siamo andati anche oltre le nostre possibilità. ci abbiamo messo di tutto, ci abbiamo messo ogni forza, ci abbiamo messo la faccia, ci abbiamo messo il tempo, le notti in bianco, ci abbiamo messo l'anima. Ecco, e quindi secondo me, quando nelle cose ci si mette l'anima, e soprattutto quando, guardandosi allo specchio, non si ha nulla per rimproverarsi, penso che sia una valutazione positiva di quello che è stato fatto. Si poteva fare di più, si poteva fare diversamente, si fa una cosa, se ne poteva fare un'altra, altri l'avrebbero fatto diversamente, altri avrebbero affrontato l'emergenza diversamente, ne possiamo discutere. Ciascuno di noi avrà la sua valutazione, il suo punto di vista assolutamente rispettabile. Anzi, chi critica, che ben venga, perché la critica è utile a crescere, a riconoscere i propri errori, a ripensare a quello che si è fatto, e magari si farebbe diversamente, perché no. Però, nella valutazione generale, io non mi sento assolutamente insoddisfatta. Mi auguro, e auguro alla città, di superare le contrapposizioni. Ha poi detto, Sciacca è una bellissima città, e dobbiamo imparare a sentirci tutti parte della comunità. L'auspicio è che il 2022 possa segnare il ritorno alla normalità persa in questi due anni di Covid. A tal proposito, a fronte dell'aumentare dei contagi anche in città, ha rivolto un appello al senso di responsabilità di tutti, soprattutto in questi giorni di festa. L'occasione è servita per stilare un bilancio dell'attività svolta, pur nella deficitaria situazione in cui si trova il comune di Sciacca, a cominciare dal personale in servizio. Si è passati da 358 agli attuali 259 dipendenti. Si guarda con fiducia alla definizione del concorso da 28 posti e all'arrivo di tre nuove unità che si occuperanno del PNRR. Abbiamo messo in ordine i conti e dopo 12 anni, ha poi evidenziato il sindaco di Sciacca, il 2021 si chiude senza anticipazione di cassa, così come è stato recuperato tutto il pregresso e i debiti fuori bilancio sono in regola con le ultime annualità. Sul fronte rifiuti ha rimarcato il raggiungimento dell'83% di raccolta differenziata, l'ampliamento del centro di raccolta, ma soprattutto annunciato sul fronte dell'evasione che sono già partiti 1.600 avvisi di accertamento per il mancato pagamento dell'Atari per circa 3 milioni di euro. In materia di lavori pubblici ha ricordato i progetti relativi agli impianti sportivi, alla manutenzione stradale, alle scuole e alle strutture museali. Per ultimo, l'affidamento dei lavori al Parco delle Terme che ne consentiranno la riapertura. È stato l'anno della Biodiaica. L'azienda idrica consortila ha ricordato Francesca Varenti citando il progetto da 33 milioni di euro per la rete idrica della città che consentirà finalmente di risolvere il problema delle perdite. Ieri sera abbiamo messo la parola fine alla sfortunata edizione del Carnevale 2020, ha dichiarato ancora il Sindaco di Sciacca confermando che per il 2022 sono già stati previsti i fondi dell'imposta di soggiorno per la manifestazione, tutta da definire però alla luce di un'emergenza Covid che non è ancora cessata. Quel che è sicuro, ha aggiunto l'assessore al turismo, è la volontà di tutti i Carnevali d'Italia di non perdere questo patrimonio, ragion per cui sono state anche sollecitate specifiche linee guida al Ministero. Fine anno caratterizzato dalla nuova ondata della pandemia su tutto il territorio numeri impietosi dei contagi a livello regionale e provinciale. Nell'Interlande Sacciense, da oggi la città di Ribera è in zona arancione, ma è tutta la Sicilia che si appresta a cambiare colore dalla prossima settimana, visto che negli ospedali sono stati raggiunti i livelli massimi di occupazione dei posti letto. E in tutte le città, a cominciare da Sciacca, lunghe file ai drive-in e in farmacia per effettuare i tamponi. Sentiamo. Il capodanno che non ci aspettavamo, invece, sono più lunghe le code nelle farmacie o drive-in per i tamponi e negli hub per i vaccini rispetto a quelle che auspicavamo davanti agli esercizi commerciali per gli ultimi acquisti in vista del Cenone. Anche a Sciacca il numero dei contagiati è aumentato considerevolmente ed è sicuramente ben più rilevante di quello che viene ufficialmente riportato nei bollettini dell'ASP. Fortunatamente, questo è quanto di profondamente diverso si registra rispetto allo scorso anno, non altrettanto allarmante la situazione dei ricoveri, seppure si sia resa necessaria in provincia di Agrigento la riattivazione della medicina Covid al San Giovanni di Dio. All'ospedale di Ribera, secondo il dato aggiornato a stamattina, sono 42 pazienti Covid ricoverati tra degenza ordinaria e subintensiva, altri 6 contagiati sono in attesa al pronto soccorso. Sempre tra i soggetti in terapia intensiva al Covid-ospedale di Ribera, nelle ultime ore si è registrato un decesso che interessa ancora il comune di Castrofilippo, ma anche un nuovo ingresso nella rianimazione. A proposito di Ribera, da oggi fino al 12 gennaio, il comune è in zona arancione. Altri sindaci in provincia in realtà hanno deciso di imporre misure restrittive con proprie ordinanze a fronte di un'escalation di contagi e il caso di Palma di Montechiaro. Un capodanno in cui ovunque sono vietate le feste di piazza, raccomandato, il senso di responsabilità. Solo una pausa pranzo, dalle 13 alle 16, domani per gli operatori in servizio al lab vaccinale di Sciacca, che effettueranno le somministrazioni sia di mattina sia di pomeriggio, mentre domenica 2 gennaio il centro di vaccinazione di Contrada Perriera rimarrà aperto tutto il giorno. Si viaggia sulle 500 dosi giornaliere, anche la corsa, soprattutto alle terze dosi, è una testimonianza della preoccupazione che serpeggia nella popolazione. Leggero incremento anche nelle somministrazioni ai bambini dei 5 agli 11 anni. Il punto di vaccinazione pediatrico presso l'ospedale di Sciacca è aperto la mattina fino alle ore 14, dal lunedì al venerdì. E intanto arrivano i biologi a rafforzare la macchina dell'emergenza sanitaria su tutto il territorio provinciale in questa difficilissima fase della pandemia. Effettueranno sia i vaccini presso gli hub vaccinali, sia i tamponi presso i drive-in. L'ordine dei biologi della provincia di Agrigento preseduto dal dottor Matteo Pillitteri attraverso l'ASP ha infatti aderito al protocollo siglato con l'assessorato regionale per il coinvolgimento in tempi rapidissimi di inconsistente numero di biologi presso i centri attivi sul territorio. Sentiamo Noemi Tummiolo. Arrivano i biologi della provincia di Agrigento a sostegno della macchina organizzativa che sta facendo fronte all'emergenza sanitaria su tutto il territorio in questa delicatissima fase della pandemia in cui si assiste ad un aumento incontrollato dei contagi da Covid. Figure cartine del sistema sanitario già dall'inizio della pandemia adesso i biologi saranno in prima linea anche nella somministrazione dei vaccini e nell'effettuazione dei tamponi. L'ASP di Agrigento è la prima in Sicilia ad attuare il protocollo siglato dall'assessorato regionale alla salute con l'ordine dei biologi e che prevede per l'appunto il coinvolgimento di questi medici nella campagna di vaccinazione e nell'effettuazione dei tamponi. Da parte nostra c'è stata subito la massima disponibilità a collaborare e a fornire il nostro contributo dichiara oggi al nostro telegiornale il dottore Matteo Pillitteri presidente delegato dell'ordine dei biologi della provincia di Agrigento. È giusto e doveroso dire che i biologi ci sono sempre stati perché tutti i tamponi vengono processati dai biologi però considerato che in questa fase dell'epidemia si sta assistendo a questo esponenziale incremento l'assessorato nella figura dell'assessore Ruggero Razza dell'ingegnere Larrocca che è il dirigente del dipartimento ha sfidato un protocollo con l'ordine dei biologi relativo a un coinvolgimento di questi biologi in tempi rapidissimi per vaccinare i soggetti del territorio oppure anche per fare dei tamponi del rinofaringei. La direzione sanitaria di Agrigento dobbiamo dire ad onore del velo che è stata la prima che ASP ha recepire questo protocollo e questa manifestazione di interesse e per cui sia il commissario straordinario che il dottore Zappia che il direttore sanitario che il dottore Mancuso hanno inviato all'ordine tutta la modulistica da adempere per confermare questa disponibilità da parte dei professionisti biologi. Devo dire che ho sentito molti colleghi che sono particolarmente disponibili e propensi a questo tipo di collaborazione sperando sempre che in questo ulteriore nostro contributo che tra l'altro c'è sempre stato possa contribuire sicuramente a ridurre questi effetti della pandemia. Quindi speriamo bene. Sono tantissimi medici biologi della provincia che aderiranno all'iniziativa. Opereranno presso i centri attivi su tutto il territorio provinciale e dunque presso gli hub dove si somministrano i vaccini anti-covid e presso i drive-in dove invece si effettuano i tamponi. Sono tantissimi. Devo dire che ancora consideri che il protocollo è stato siglato il 29 di dicembre quindi ancora è presto per fare una valutazione completa perché la disponibilità dei biologi deve essere data entro il 2 di gennaio quindi a breve sapremo quante persone riusciremo a coinvolgere ma sentendo così molti colleghi sono in tanti ad aver dato la disponibilità. E adesso ripercorriamo i principali avvenimenti del 2021 che hanno caratterizzato la vita cittadina ma anche quella dell'Interland nel tradizionale servizio di fine anno della nostra emittente. Un anno di RMK Notizie realizzato da Massimo D'Antoni e Calogero Parla Piano vediamo. Cala il sipario su un 2021 che più o meno è stato caratterizzato come l'anno precedente dalla pandemia tra contagi e restrizioni ma soprattutto con un numero ancora troppo elevato di vittime ma quello che ci apprestiamo a lasciarci dietro alle spalle è stato anche l'anno delle vaccinazioni anti-covid tra la normale paura e gli estremismi dell'ideologia Novax in un ambito nel quale anche delle nostre parti la testimonianza di contrarre il vaccino non è stata certamente silenziosa. La città di Sciacca con il suo hub vaccinale ha risposto convintamente alla richiesta della scienza medica di combattere la pandemia attraverso i vaccini pur sapendo che tutto questo ancora non basta soprattutto alla luce delle conseguenze legate alle varianti l'escalation di contagio ha reso necessaria a marzo l'istituzione della zona rossa anche nella stessa città di Sciacca le conseguenze dei contagi sul tessuto produttivo ed economico sono state devastanti solo parzialmente recuperate dai ristori alle imprese concessi dallo Stato ma la pandemia ha fatto anche emergere ulteriormente i problemi di una sanità siciliana boccheggiante con ospedali con pochissimo personale e aree d'emergenza a partire da quella di Sciacca rischio paralisi con medici dei reparti costretti a garantire turni al pronto soccorso ma anche negli altri ospedali della stessa ASP in tutto questo la nascita ribera del covid hospital non è stata in dolore la comunità locale infatti chiede da tempo e a gran voce il ripristino di un nosocomio tradizionale ancorché riunito con il Giovanni Paolo II pandemia che ha impedito l'organizzazione di diverse iniziative pubbliche compresa la processione della Madonna del Soccorso anche se si è riusciti a commemorare almeno il 25esimo anniversario della collocazione di una statua di Maria al porto il 2021 è stato l'anno della costituzione della tanto invocata azienda speciale consortile per la gestione del sistema idrico integrato che ha preso il nome di AICA società che ha preso il posto della Girgenti Acqua e che non solo è stata sottoposta ad indagine da parte della procura di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta denominata Waterloo ma che è anche fallita il nuovo corso è stato oggetto di discussioni e polemiche malgrado fosse stato apparentemente unanime l'obiettivo di far tornare la gestione dell'acqua in mani pubbliche un nuovo corso che ha iniziato dovendo fronteggiare tante difficoltà soprattutto economiche ma si sta procedendo in un ambito tortuoso nel quale la regione siciliana punta però all'ennesima riforma dietro alla quale la sensazione prevalente è che sull'acqua alle mani dei privati sono sempre pronte di intervenire per le discutibili impostazioni del business la nuova recente ondata di maltempo ha fatto riemergere in tutta la sua drammaticità la sempre più complessa tenuta idrogeologica del territorio e non solo di quello saccense tra collettori fognari inadeguati e reti idriche troppo vecchie con sullo sfondo il tema dell'intervento dell'uomo dove non sarebbe stato necessario a ridosso dei corsi d'acqua l'ultima alluvione quella di novembre ha lasciato testimonianze visibili che i privati cittadini stanno pagando carissime come accade in via Lido dal fronte lavori pubblici Sciacca attende il via libera al finanziamento per rifare interamente la rete idrica mentre sono finalmente in dirittura d'arrivo i progetti gestiti dal commissario unico per l'emergenza depurazione sia per la realizzazione del secondo straccio del PARF vent'anni dopo la realizzazione del primo sia per il completamento del depuratore comunale interventi fondamentali per guardare ad un futuro sostenibile ed ambientale della costa saccense ma lo stato di sostanziale inadeguatezza degli impianti presenti nel sottosuolo messi a dura prova dal maltempo e la cui condizione indubbiamente è peggiorata anche quest'anno è la causa delle tantissime frane che hanno trasformato le strade cittadine in tanti colabrodi costringendo il comune a disseminare lungo il perimetro cittadino decine di transenne assurde ed argomento di scherno tra quella parte di popolazione che frequenta il social network ma a proposito di lavori pubblici oltre alla riapertura avvenuta in estate della via Eleonora d'Aragona che era rimasta chiusa per anni sono iniziati quest'anno quelli per l'ampliamento della banchina San Pietro all'interno dell'area portuale iniziato anche l'intervento di un privato che ha demolito i manufatti dell'ex cantina Eno Carboi e che sta lavorando per realizzare strutture commerciali e un parcheggio ed una rotonda sulle aree pubbliche L'avvertenza terme di Sciacca ha anche quest'anno segnato il passo con una questione alimentata esclusivamente dalle polemiche dopo la marcia a piedi su Palermo promossa dall'amministrazione Valente alla quale hanno aderito cittadini e associazioni civiche vicenda che ha scosso i palazzi della regione con il presidente Musumeci che è sceso personalmente in campo per attaccare il sindaco di Sciacca che sarebbe stata rea a suo dire di avere promosso una protesta con obiettivi politici questione questa però ferma al palo che continua a generare amarezza visto che continua a non muoversi niente dal fronte della scelta del privato che dovrebbe gestire il patrimonio mentre peggiora lo stato di conservazione dei beni come rivela la necessità di mettere in sicurezza l'area attiva al convento di San Francesco dopo la caduta di alcuni calcinacci alla Perriera sono stati inaugurati nuovi impianti per il tennis all'interno del complesso Maniscalco bando europeo lavori durati un anno campi sia all'aperto sia al chiuso ed è anche scoppiata la passione per il padel sport cugino del tennis che ha visto l'inaugurazione alla Perriera di un impianto privato e altrove con la costruzione presso strutture preesistenti di ulteriori campi aumenta ogni giorno il numero di praticanti dal punto di vista politico l'anno che si conclude oggi è stato l'ultimo gestione Francesca Valenti tra pochi mesi infatti si torna alle urne quasi certamente la prima cittadina uscente non si ricandiderà il suo partito il PD le aveva chiesto di comunicare le proprie intenzioni entro settembre ma la Valenti non lo ha fatto e mentre si susseguono incontri per la preparazione delle prossime elezioni la vita pubblica è stata sprovvista del Consiglio Comunale dopo il suo scioglimento contro il quale l'opposizione si è rivolta alla giustizia amministrativa che però le ha dato torto sindaco Valenti che ha toccato con mano le difficoltà ad amministrare senza personale e senza disponibilità economiche in un comune che continua ad essere strutturalmente deficitario recentemente sono stati espletati i concorsi per l'assunzione di 28 persone in alcune importanti figure professionali ma il futuro degli enti locali in generale è tutt'altro che il rosio a rivelarlo è stata anche la stessa protesta dei sindaci siciliani volati a Roma alla ricerca di qualche sostegno tangibile da parte del governo centrale che recentemente ha sbloccato 150 milioni di euro come fondo per equativo aggiuntivo destinandolo solo ai comuni siciliani in crisi finanziaria crisi dipendente anche dalla fatica di famiglie e imprese a pagare le tasse a partire da quella sui rifiuti che malgrado la ormai acquisita abitudine a rispettare la raccolta differenziata quest'anno le zone servite dal porta a porta sono state allargate ad altre contrade non ha generato lo sperato abbassamento delle tariffe che anzi sono aumentate anche per colpa dei rincari pesantissimi dei costi sul conferimento alle elezioni amministrative del 2021 tra i comuni dove si è votato a Montevago Margherita la Rocco Ruvole subentrata a se stessa nel ruolo di sindaco la cronaca del 2021 ci consegna anche quest'anno diversi interventi da parte delle forze dell'ordine condotti nell'ambito del contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti situazione di emergenza civile nel comune di Ribera dove un prete Don Antonio Nuara ha promosso la nascita di un centro di ascolto per tossicodipendenti con i giovani purtroppo sempre più spesso vittime di un sistema nel quale sono particolarmente vulnerabili e nel quale le loro famiglie rischiano di perderli per sempre come purtroppo i fatti hanno rivelato sono proseguite le operazioni antimafie con altri presunti fiancheggiatori del super boss Matteo Messina Denaro che sono stati arrestati nel tentativo infinito di arrivare alla primola rossa di Cosa Nostra la conclusione del primo grado del processo scaturito dall'operazione Montagna ha visto la condanna dell'ex sindaco di San Biagio Plata Nisantino Sabella ha destato in pressione per le modalità con le quali è avvenuta la morte del boss di Sciacca Salvatore Di Gangi scarcerato in solitudine ad Asti e trovato cadavere tra i binari della ferrovia di Genova i figli chiedono che si faccia chiarezza sulla sua remissione in libertà senza che loro fossero stati avvisati considerando che Di Gangi era molto malato sul fronte a immigrazione non sono mancati neanche quest'anno i cosiddetti sbarchi fantasma persone provenienti per lo più dalla Tunisia diverse delle quali potrebbero essere riuscite a disperdersi sulla terraferma la morte è stato pagato l'ennesimo prezzo altissimo al fenomeno degli incendi che hanno interessato diversi comuni da Caltabellotta a Burgio vicenda questa che ha fatto emergere le gravi carenze di personale tra i forestali con un numero destinato a calare ulteriormente visto che molti lavoratori sono ormai alla vigilia della pensione i fatti più recenti della cronaca sono quelli che hanno destato maggiore impressione dall'esplosione di Ravanusa costata la vita di nove persone più il piccolo Samuele morto prima di nascere e l'incendio nella casa di Palma di Montechiaro in cui è morta a Ginevra una bambina di appena due anni e mezzo a Ferragosto l'omicidio a Favara di Salvatore Lupo vicenda per la quale è accusato del delitto il suocero la pandemia ha impedito anche quest'anno di poter tornare ad organizzare il carnavale di Sciacca e soltanto alla fine del 2021 è stato possibile chiudere il concorso dell'edizione 2020 quella funestata dall'incidente costato la vita del piccolo Salvatore Sclafani vicenda per la quale in estate è iniziato il processo in tribunale le manifestazioni estive si sono potute svolgere con margini di manovra più accettabili rispetto al 2020 ma si è rivelato complicato promuovere calendari di iniziative anche se non sono mancate le interessanti manifestazioni culturali compreso il letterando in fest e con numerose presentazioni di libri tra cui spiccano quelli sulla tonnara di Sciacca e sulla storia del Dixmude ancora successo per le vie dei tesori con oltre 5.000 visite a Sciacca con la riapertura dopo 60 anni della chiesa dello Spasimo vecchia sede della Corte d'Assise dove l'artista Franco Accurso Eugulino ha esposto i suoi lavori nell'ambito della mostra denominata Domus grande visibilità ha avuto la città di Sciacca attraverso le iniziative del Museo Diffuso dei Cinque Sensi compresa l'apertura alle visite guidate delle grotte vaporose di San Calogero concesse dalla regione riprese anche dalla televisione nazionale una vetrina interessante che ha avuto anche l'evento internazionale Triathlon con tanti sportivi che si sono dati appuntamento a Sciacca in una collaborazione tra il comune e Aeroviaggi sul fronte della solidarietà sociale sono stati sotto i riflettori gli aiuti per le famiglie più povere per gli effetti della pandemia la cooperativa Arcobaleno ha protestato per i ritardi nei pagamenti per i servizi resi al comune di Sciacca mentre l'associazione Agape che opera nel campo delle iniziative per i ragazzi disabili ha avuto uno scontro con l'aspedia grigento che ha preteso la restituzione del locale dell'ospedale affittate al suo delizio per quanto riguarda lo sport l'Unitas Sciacca ha continuato a rinverdire la passione per il calcio anche se la stagione 20-21 è stata interrotta anzitempo per la pandemia e quella successiva tuttora in corso sta vedendo un andamento dal punto di vista dei risultati sportivi piuttosto altalenante tanta attenzione infine è stata rivolta agli atleti siciliani alle Olimpiadi di Tokyo e tra i protagonisti si è fatto vedere a Sciacca Nino Pizzolato medaglia d'oro nel sollevamento pesi parliamo adesso dell'esplosione avvenuta a Ravanusa i vertici nazionali e regionali della società Italgas Reti sono i destinatari dei primi avvisi di garanzia firmati dalla procura di egrigento per l'esplosione dell'11 dicembre in totale sono 10 gli indagati poco dopo l'esplosione che castò la vita a 10 persone lo stesso procuratore patronaggio ha parlato di una bolla di metano creata nel sottosuolo per una perdita di gas e poi innescata da una scintilla casuale questi avvisi di garanzia verso il gestore della rete sarebbero un atto dovuto in vista di un accertamento irripetibile in programma il 4 gennaio in via Trilussa i vertici della società nomineranno i propri consulenti martedì le ruspe scaveranno sotto le macerie del palazzo per cercare di capire se e quanto la rete del metano era stata danneggiata e se un eventuale deterioramento sia stato dovuto alla mancata manutenzione della rete la procura grigentina ha poi nominato i tre medici legali che eseguiranno le autopsie sui corpi delle vittime il pool di magistrati costituito per far luce su quanto accaduto indaga per i reati di disastro colposo e per omicidio colposo plurimo malgrado la festività sarà regolare la raccolta dei rifiuti domani a Sciacca 1 gennaio il personale delle ditte bono e sea ritirerà regolarmente la frazione umida la raccolta dei rifiuti domenica 2 gennaio come da ecocalendario riguarderà invece solo le attività commerciali fiocchi di carnevale ieri la serata conclusiva al termine della quale è stato proclamato vincitore dell'edizione 2020 il carro allegorico volere volare dell'associazione e ora lì fermi tu si mette dunque la parola a fine all'edizione della festa funestata dalla tragedia del piccolo salvatore sclafani una manifestazione dal futuro assai incerto in riferimento non solo alla pandemia ma all'organizzazione in generale seguiamo il servizio è il carro allegorico volere volare realizzato dall'associazione culturale orali femmi tu il vincitore dell'edizione 2020 del carnevale di sciacca questo è il risponso della giuria presieduta da davide catagnano è composta da lea fisco gianmar caulino franco bruno salvatore randazzo e ignazio marino al termine delle due serate di esibizioni dei gruppi mascherati all'hotel alicudi di sciacca mare nell'ambito della manifestazione fiocchi di carnevale promossa dall'assessore al turismo e spettacolo sino caracappa al fine di designare i vincitori del carnevale 2020 e mettere così la parola fine ad una edizione sospesa per la tragedia del piccolo salvatore sclafani e mai più ripresa a causa della pandemia la giuria ha dunque indicato come vincitrice l'associazione orali femmitù con il carro volere volare l'opera in cartapesta coinvolta nell'incidente in cui perse la vita il bimbo di 4 anni al tribunale di sciacca ha preso il via lo scorso novembre il processo scaturito dalla tragica morte del bambino al secondo posto si è piazzato il carro allegorico io non ho paura dell'associazione la nuova isola al terzo il carro missione bilbao dell'associazione culturale saranno famosi quarto il carro allegorico all'ultimo respiro dell'associazione le nuove evoluzioni e quinto doppio gioker dell'associazione archimede le cinque associazioni in concorso hanno presentato solo le coreografie dell'inno e delle canzonette che fanno parte dei copioni per la valutazione delle altre voci del bando di concorso la giuria ha visionato filmati e video di due anni fa sempre ieri sera si è poi svolta la premiazione anche questa al pari delle esibizioni a porte chiuse è la prima volta che valutazione dei partecipanti e proclamazione dei vincitori avvengono nella medesima serata si chiude così definitivamente dopo diversi tentativi andati a vuoto a causa dell'emergenza sanitaria la sfortunata e tragica edizione 2020 del carnevale di Sciacca una manifestazione dal futuro assai incerto per gli anni a venire a prescindere dalla gognata cessazione della pandemia l'incidente costato la vita al piccolo Salvatore inciderà sicuramente sull'organizzazione generale e complessiva della festa per come è stata concepita e portata avanti per oltre 100 anni si dice soddisfatto dell'attività portata avanti in questi primi sei mesi dalla sua costituzione il circolo territoriale Marina San Michele di Fratelli d'Italia abbiamo portato avanti scrive il presidente del circolo Ignazio Gallo iniziative di rilevanza strategica per il nostro territorio non ottenendo mai però un diretto riscontro da parte dell'amministrazione comunale basti pensare si legge nella nota al nostro intervento del 29 settembre sulla necessità del comune di dotarsi del piano di utilizzo del demanio marittimo rispetto al quale oggi si registra l'ottenimento di un contributo per la sua redazione e al nostro grido d'allarme del mese di novembre sul piano paesaggistico che ha visto solo a quattro giorni di distanza dal termine ultimo per la presentazione l'impegno del sindaco a depositare ricorso al TAR per far valere le ragioni del territorio speriamo che il 2022 conclude il circolo Marina San Michele di Fratelli d'Italia possa segnale per il territorio il superamento delle attuali criticità e vedere rafforzato il senso civico e lo spirito partecipativo e di solidarietà zone franche montane Vincenzo Lapunzina presidente dell'associazione zone franche montane Sicilia lancia l'allarme per l'attuazione della norma a sostegno delle aree montane a rischio non solo 100 milioni di euro destinati ai sindaci di queste città ma anche la stessa associazione a causa di un conflitto tra norme sentiamo il 24 dicembre la giunta regionale ha emanato un atto di indirizzo al dipartimento regionale della programmazione al fine di adottare tutte le iniziative finalizzate alla defiscalizzazione per circa 100 milioni di euro a sostegno delle imprese operanti nelle zone franche montane siciliane individuate con la delibera di giunta del 21 settembre scorso nella giornata di ieri abbiamo appreso del contenuto della delibera e in antitesi con la formulazione suggerita dal governo e dalla commissione finanze tesoro del senato oltre che dalla ragioneria generale dello stato essi lura sostanzialmente l'iter parlamentare e il faticoso percorso che dura da oltre 2451 giorni a parlare è Vincenzo Lapunzina presidente dell'associazione zone franche montane sicilia rimaniamo sbigottiti continua Lapunzina facciamo appello ai presidenti micichè e musumeci che il 13 dicembre scorso hanno garantito ad alcuni sindaci di destinare 20 milioni di euro alla start-up della legge affinché la linea dettata dall'assessore al bilancio venga messa in discussione nell'interesse di chi ancora resiste nelle aree ignote dell'isola i 20 milioni di euro indicati dal presidente musumeci sono stati destinati dal governo Draghi nella legge di bilancio 2022 e sono una parte dei 100 milioni previsti per compensare gli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità i 100 milioni di euro o i 20 auspicati dal presidente musumeci non sono bastevoli per la messa in regime della norma di politica economica ma risultano essere indispensabili per definire l'iter legislativo al senato quindi alla camera sul caos volutamente generato conclude la punzina abbiamo solo una certezza i nominativi degli autori 139 cani tolti dalla strada e adottati grazie al lavoro svolto dall'Oasi Oana associazione di Chiara Calasanzio che a Santa Margherita di Belice ospita animali che erano stati abbandonati molti di loro sono stati accolti da famiglie del nord Italia sentiamo 139 cani tolti dalla strada da situazioni difficili o dalla vera e propria violenza e regalati ad una vita nuova con una famiglia che si prenderà cura di loro per il resto della loro vita e questo è il bilancio dell'associazione oasioana i Pelosi di Chiara rifugio fondato ormai sette anni fa dalla volontaria siciliana Chiara Calasanzio a Santa Margherita di Belice quasi un cane ogni due giorni dunque ha raggiunto la sua nuova casa per lo più tutti nel nord Italia ma alcuni anche nelle capitali europee grazie alle staffette effettuate con mezzi autorizzati dalle ASL tra queste 139 storie di adozioni quella che ha suscitato maggiore commozione è quella di Ola la cucciola lanciata da un'auto lo scorso 13 aprile a Menfi è rimasta cieca per i traumi riportati come aveva richiesto l'oasioana insieme a Ola la famiglia adottante ha preso con sé anche Micia la gattina recuperata per strada che è diventata l'amica del cuore di Ola sono felicissima di questi numeri ha commentato la fondatrice di Oana Chiara Calasanzio stiamo parlando di cani che avrebbero trascorso la loro vita da randaggi qualora fossero riusciti a sopravvivere tra di loro infatti ci sono cuccioli recuperati in pozzi scatoloni o sotto la pioggia non avrebbero avuto nessuna e dico nessuna possibilità di sopravvivere se non li avessimo recuperati curati allattati e rimesse al mondo ha concluso Chiara Calasanzio oltre 500 libri acquistati nel 2021 grazie ad un finanziamento del Ministero della Cultura di circa 10.000 euro completata la fornitura libri alla biblioteca comunale di Palazzo Lazzarini a Sciacca una vasta scelta di volumi per tutti i gusti e per tutte le età a cominciare da libri per bambini e con dei tomi dalla grande rilevanza storica spiega ai nostri microfoni l'assessore comunale alla cultura Gisella Mondino ascoltiamola completata la fornitura libri alla biblioteca comunale di Palazzo Lazzarini oltre 500 i volumi acquistati nel 2021 grazie ad un apposito finanziamento del Ministero della Cultura un vasto patrimonio librario è adesso a disposizione della cittadinanza che può gratuitamente prendere in prestito i volumi e restituirli dopo la consultazione libri di tutti i generi e per tutte le età spiega l'assessore alla cultura del comune di Sciacca Gisella Mondino quest'anno sono stati acquistati 500 volumi sia titoli per l'infanzia per varie fasce di età adolescenti poi abbiamo acquistato tantissima saggistica che riguarda il nostro territorio e più in generale la Sicilia abbiamo potenziato una sezione dedicata al nostro Tommaso Fazzello abbiamo anche acquistato dei libri che ci sono stati richiesti da parte di studenti universitari che hanno espresso proprio attraverso desiderata delle richieste per acquistare dei libri che sono particolarmente importanti e che sono anche motivo di vanto per la nostra biblioteca tanta saggistica tanti titoli dedicati alla nostra storia alla storia locale alla storia siciliana è un'altra occasione un'altra occasione importante per avvicinarci alla lettura per avvicinarci ai libri per andare in biblioteca per venire in biblioteca per poter dedicarsi qui a concedersi dei momenti di lettura oppure approfittare del prestito del prestito libri il finanziamento era di circa 10.000 euro mancavano spiccioli per arrivare a 10.000 euro sono state invitate hanno partecipato in realtà sia alle librerie locali che anche alcune librerie e case editrici siciliane e così come la normativa prevede una parte della SOM è stata destinata alle librerie ed un'altra parte alle case editrici sempre siciliane Sciacca Città che Legge continua ad invoiare soprattutto le giovani generazioni a leggere a recarsi in biblioteca spazio è stato dato anche alle nuove uscite sì abbiamo Sciacca Città che Legge ha voluto anche vuole invitare i tanti lettori a venire perché qui troveranno tutti gli ultimi romanzi di recentissima pubblicazione abbiamo voluto dare questa attenzione particolare al mondo dei lettori offrendo loro la possibilità di poter venire qui per poter leggere e prendere in prestito tutta la più recente narrativa ecco e la risposta non si è fatta attendere sono già diversi i ragazzi che usufruiscono dei libri della biblioteca anche per fini scolastici una bella opportunità poter usufruire di una biblioteca comunale che libro hai preso tu testimonianze partigiane per uno scopo didattico perché il professore Gero Maggio al linguistico ci ha detto di prendere dei libri per leggerli e poi esporli dopo qualche mese e lo faremo tipo una volta ogni tre mesi così non solo particolare attenzione viene data ai più piccoli nei prossimi giorni una particolare tombola sarà rivolta ai bambini negli spazi all'aperto dell'ex istituto Sant'Anna nell'ambito del cartellone degli eventi natalizi come d'altra parte in tutto l'anno abbiamo previsto dei momenti dedicati ai bambini i primi due momenti si sono svolti all'interno della casa a Scaglione anche per fare scoprire loro questo logo così bello e importante della nostra storia mentre giorno 3 dovremmo realizzare una tombola all'aperto qui proprio all'interno di Palazzo Lazzarini in modo da poter sperimentare una nuova tombola che è appunto in simboli Alcune delle innumerevoli opere letterarie dell'artista saccense Franco Accursio Gulino sono state interpretate ieri all'ex chiesa di Santa Maria dello Spasimo dall'attore Alfonso Veneroso poesie e racconti introspettivi dell'artista che si è sempre dedicato agli ultimi non solo attraverso i quadri vi promuoniamo alcuni estratti nel servizio se dipingessi per cento volte ciò che più mi piace brucerei per cento volte sull'altare dell'ipocrisia un cristiano certo a modo mio per immagini o di più scritti a volte astratti a volte che raccontano episodi del passato diversi punti di vista poesie metaforiche e soprattutto in medesimazione dei più fragili degli ultimi la produzione letteraria dell'artista saccense a tutto tondo Franco Accursio Gulino è notevole una parte la più significativa di testi è stata presentata ed interpretata dall'attore Alfonso Veneroso ieri all'ex chiesa Santa Maria dello Spasimo divenuto ormai Domus un luogo che da ottobre accoglie diverse opere di Gulino in una mostra organizzata in collaborazione con il festival Le vie dei tesori è visitabile fino al 9 gennaio Ospiti dei topi è il primo racconto letto da Veneroso incentrato sullo studio del pensiero un luogo di grande ispirazione per Franco Accursio Gulino talmente piccolo che anche il pensiero ci sta stretto sì sto parlando del mio studio del pensiero di Capo San Marco intima e molto fragile la strada di Margherite dal basso della montagna ferita da improbabili prelievi di sedimenti rocciosi si avverte il profumo saraceno e il passo di armature di giganti l'escluso paura profetiche clandestinus solo sono alcuni dei titoli delle numerose poesie dedicate a chi spesso non viene considerato dimenticato dalla società tutto avviene nell'aria dove marciscono e si decompongono infinite fughe contenitori di informazioni depositate da secoli in patrie in questo accesso non è possibile respirare perché ha un costo la necessità di una voce tutto avviene nell'aria mangiando vino in una panchina pronta ad asciugare il cervello c'è sempre un ritardo per i documenti necessari per respirare quel cielo così vicino i tesori di sciacca in una sera di natale ci siamo fatti accompagnare dai versi di franco accursio gulino ha commentato l'assessore alla cultura gisella mondino ci siamo ritrovati a sentire la voce delle sue tavolozze e dei suoi colori delle storie dei personaggi che hanno fatto e fanno parte della sua vita di uomo e di artista che non si arrende alle brutture del vivere e non si fa inebriare dalle facili conquiste dalle effimere glorie franco accursio gulino è rimasto lì umilmente tra il pubblico lasciandosi trascinare dalle emozioni che lo spasimo sa regalare è stato presentato ieri pomeriggio a Burgio un cd di canti dedicato al venerabile Andrea dell'ordine minori dei cappuccini l'iniziativa è del comune e dell'ordine guidato da fra Michele Barone Calogero Parla Piano è stato presentato ieri pomeriggio a Burgio presso la storica chiesa dei cappuccini un cd in onore del venerabile fra Andrea da Burgio l'iniziativa è stata fortemente voluta dal comune guidato dal sindaco Francesco Matinella dall'associazione venerabile Andrea e dal locale ordine dei cappuccini con fra Michele Barone che è anche vice postulatore per la causa di beatificazione del frate e missionario burgitano alla presentazione del lavoro musicale hanno partecipato anche il soprano Piera Grifasi e il tenore Giuseppe Infantino che tra gli altri hanno eseguito questo brano il cui testo è stato scritto dal dirigente scolastico e direttore del MUCEB Vito Ferrantelli Il venerabile fra Andrea da Burgio nacque Nicolò Sciortino il 10 settembre 1705 dopo gli anni giovanili da contadino e pastore sentita la chiamata del Signore vestì l'abito cappuccino nel 1735 scelse di essere fratello laico e poi missionario per 17 anni in Congo e in Portogallo rientrato nella sua provincia trascorse gli ultimi anni a Palermo dando mirabile esempio di santità morì il 18 giugno 1772 e subito iniziò la causa e vennero raccolti molti documenti dal postulatore dell'epoca Ottavio da Palermo a Burgio sono rientrate nelle 2012 le spoglie mortali del venerabile poi è sorto il relativo museo in estate si è avviato il pellegrinaggio sulle orme di San Bernardo la Corleone che mette in relazione la figura di San Bernardo e quella di Fra Andrea nato esattamente cento anni dopo il primo e morti nella stessa cella a Palermo e adesso il cd intitolato e mi avvicino a te con brani di forte intensità spirituale e lidica adesso la rubrica il libro del giorno a Martha Gellorn recita la dedica alla prima edizione di Per chi suona la campana il capolavoro di Ernest Hemingway tutto qui un nome e un cognome quelli della più grande corrispondente di guerra del novecento la donna che con Hemingway ha mosso i primi passi da giornalista sul campo nel 1937 a Madrid sotto le bombe che presto è diventata più brava di lui nel mestiere di raccontare i fatti che lo ha amato sposato lasciato in un'appassionata storia d'amore tinta di rivalità e che per tutta la vita ha avuto una sola missione andare a vedere i reportaggi rigorosi avvincenti di Gellorn coprono i fronti più caldi del secolo breve è stata la prima reporter donna a sbarcare sulle spiagge della Normandia è andata in Vietnam decisa a smascherare le menzogne nella propaganda ufficiale USA una carriera attraversata dalla gloria e dalla tragedia segnata dalla solitudine delle donne indipendenti è controcorrente oggi le guerre sono cambiate ma nessuno dei problemi contro cui Marta ha passato la vita a battersi è stato risolto sono sempre i più poveri a cui lei ha saputo dar voce a pagare i conflitti militari ed economici sono ancora le donne come è successo a lei a dovere faticare di più per farsi strada in guerra come in pace in queste pagine che illuminano gli anni più folgoranti di Gellor la sua voce si intreccia con quella di Lillie Gruber che interpella anche altri grandi corrispondenti raccontando di battaglia in battaglia la bellezza e la responsabilità del giornalismo in un tempo che ha più che mai bisogno di verità la guerra dentro di Marta Gellor è il dovere della verità di Lillie Gruber edito Rizzoli siamo allo sport calcio Salvatore Crivello è stato confermato alla guida dell'unitas sciacca l'ufficializzazione arrivata proprio all'ultimo giorno dell'anno in attesa di riprendere la preparazione agonistica Crivello che ha sostituito Geraldi a seguito delle sue dimissioni ha già ottenuto con i neroverdi due pareggi vediamo Salvatore Crivello sarà alla guida dell'unitas sciacca anche per il prosieguo del campionato di eccellenza lo ha confermato la società guidata dal presidente Gioacchino Settecasi l'ufficializzazione è giunta l'ultimo giorno dell'anno in attesa di riprendere la preparazione agonistica in vista del torneo si tornerà in campo infatti covid permettendo domenica 9 gennaio al Gurrera contro l'Akragas da un vertice societario alla vigilia dell'arrivo del nuovo anno è emersa la volontà comune di dare fiducia al tecnico della squadra Juniores che nelle ultime due giornate del torneo ha sostituito nelle partite contro la Mazzarese in trasferta e contro la Parma in valle in casa il tecnico dimissionario Giuseppe Geraldi Crivello faceva già parte dello staff tecnico e oltre a guidare la squadra Juniores che nel proprio campionato veleggia in betta alla classifica è stato fin dall'inizio della stagione vicino alla formazione maggiore questa sua conoscenza del gruppo l'esperienza di tecnico già maturata in passato in eccellenza e il proficuo lavoro nel settore giovanile hanno determinato la scelta della società di dare a mister Salvo Crivello la responsabilità di gestire le rimanenti giornate del campionato di eccellenza ossia l'intero girone di ritorno oltre alle due partite già disputate L'unità si sciacca scrive la società nella nota stampa trasmessa oggi è certa che mister Crivello che da calciatore ha indossato in serie C le maglie di Ternana e Castel San Pietro e in serie D quelle dello sciacca a metà degli anni 90 saprà ripagare questa fiducia e proseguirà il suo lavoro con la passione la competenza e la professionalità che gli riconosciamo E questo era l'ultimo servizio di quest'ultima edizione del 2021 nella speranza che il 2022 sia realmente un anno migliore a voi tutti buona fine e buon inizio e buon inizio